Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare la katana luna velata anzi io non ci faccio mai caso ai nomi delle armi, quest'arma la chiamavo katana brillante ma il suo nome è luna velata quindi la troveremo, ce la prenderemo, uccideremo il drago di magma, è già quindi il posto dove andare è qui alla terra di Kaelid e qui troverete la galleria, qui proprio qua la galleria di Gael andiamo lì, scendiamo giù, entriamo nella galleria, facciamoci un bel viaggetto là sotto una volta trovato il boss lo sconfiggiamo, ci darà un bel po' di rune e anche la katana io visto che noi due ho fatto il secondo viaggio e stavo anche pensando di fare il terzo ma più avanti, più avanti che adesso è... ho appena trovato tutti i globi e che mi tocca fare? Di nuovo da capo tutti i globi, tutto quel casino, minchia facciamo più avanti, ecco questo è il percorso da fare, scendere qua sotto e aprire questa grande porta e lì troverete minchia, questo non vuole morire, visto fa un sacco di danno, mi raccomando se volete usare quest'arma potenziatela e miglioratevi anche la destrezza, ok? Quindi qui c'è anche il punto di grazia e ragazzi il video mi dice qui era un breve video su come trovare questa bella katana quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao! Français Avveni A足inare Pagmai A足inare Fagi Ab Chocolate Tcc Anche Scc